Vediamo in questo video come riprendere una relazione con il tuo ex narcisista Con il tuo ex narci Allora, prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella Così riceverai la notifica dei nuovi video Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale Seguimi su TikTok e su tutti i canali YouTube Che attualmente sono nove Quindi vai a cercare tutte nove, sono nove Ma comunque se vai su uno dei miei canali trovi sotto tutti gli altri Insomma, quindi iscriviti a tutti che sono interessanti Almeno spero Allora, vediamo un attimino come riprendere una relazione con il tuo ex narci Allora, questo è quanto di più sbagliato c'è Perché non devi riprendere una relazione con il tuo ex narci Sia che sia narciso Sia che sia stronzo Sia che sia libertino Sia che sia figlio di mignotta Sia che sia pazzo Sia che sia folle Sia che sia quel che sia La cosa peggiore che una persona può fare è voler riprendere una relazione con una persona tossica Questo devi assolutamente evitare di farlo Non esiste Deve diventare un ex sine die Tra l'altro, tieni presente questo Che il vero problema del narcisista ex è che tornerà Perché il narcisista segue uno schema ben preciso Quindi prima ti fa love bombing Quindi ti fa sto bombardamento d'amore Poi, nel frattempo, ti cerca di isolarti Ah, io sono l'unico Io sono il migliore Io sono qua Io sono l'unico Guarda che quella è stronza Ce l'ha con te Tua madre è mignotta Ce l'ha con te Tuo padre è figlio di mignotta Ce l'ha con te Tuoi amici sono tutti qua Sono tutti là Io sono l'unico O l'unica, diciamo Perché il narcisista è uomo e donna Ad esserti vicino Ad essere la persona giusta per te Quindi cerca di isolarti Poi, una volta che ti hai isolato Inizierà a denigrarti Tu non vali niente Inizierà a farti vivere sensi di colpa Tu sei una stronza Ti comporti male Guarda tutto quello che io ho fatto per te E come ti permetti Ho fatto tutto questo per te Tu non stai facendo niente per me Insomma, utilizzerà tutti questi modi Per, tra virgolette Farti sentire una merda fondamentalmente Quindi io faccio tutto questo E tu non fai niente Bla 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 E metterai in atto tutte queste strategie E questo lo farà Devi renderti conto Che farà questo E quindi E quindi tu devi uscire fuori Da questa situazione Devi uscire fuori da questo Perché altrimenti Cadi In una situazione davvero nefasta Cadi in una situazione davvero Potenzialmente, diciamo Negativa Perché poi Dopo che ti avrai squalificato Delicato Denigrato E tu ti sarai coinvolto ancora di più Perché dirai Ma come mai? Ma perché? Ma come mai? Ma perché è così? Ma io, questa persona L'ho amata Prima mi amava Forse avevo fatto qualcosa Perché poi Lui cercherà di suo Di farti venire il senso di colpa Ma tu Te li prenderai No? Dicendo Ebbè Per un tempo Questa persona Mi ha fatto Tu non dirai love bombing Ma mi ha amato Faceva questo Faceva quello In realtà era solo love bombing E adesso Non sta facendo più niente Tu pensi che Non sta facendo più niente Quindi Come dire Tu sei fregato Invece non è Invece il fatto È semplicemente Che il narcisista A questo punto Come dire Fa leva sulle tue debolezze No? E poi Cosa fa? E poi ti scarta E qua viene il bello E diventa ex E quindi Ma non finisce qui la storia Perché lo scarto Lo fa per diversi motivi Il primo motivo Lo fa per farsi i cazzi suoi Perché c'è altre situazioni Di approvvigionamento narcisistico Quindi I motivi sono sicuramente Per farsi i cazzi suoi Ma non soltanto Per farsi i cazzi suoi Puramente i cazzi suoi Lo fa anche per Acquisire maggior potenziale Perché tanti i cazzi suoi Se li fa anche quando Come dire Non Non è che se li fa soltanto Per Per così dire Quando tu Quando ti scarta Se li fa anche Quando ti fa lo bombi I narcisisti Hanno sempre Delle relazioni plurime Hanno sempre Delle relazioni Mixate Quindi Questo è un fatto fondamentale Quindi il narcisista Utilizza queste situazioni Gioco forza Le utilizza Come Meglio crede Insomma Quindi tutto questo Per fare che cosa Per poi Una volta che ti ha messo Benino a mollo Ritornerà Ed è qui che tu devi Perché c'è Il cucù del narcisista Cioè Ciao Ci sono Inizierà a fare un po' di orbiting A metterti qualche like Nei social A fare qualcosa Poi si Piano piano Si rimanifesterà E tu ovviamente Ci cascherai È qui che non devi cascarci Quindi fondamentalmente Devi assolutamente evitare Di riprendere una relazione Con il narcisista Ma non solo Andandola a cercare tu Non solo Andandola a cercare tu Anche evitando Evitandolo assolutamente Quando torna Quando torna Devi semplicemente Dare indifferenza E soltanto dando indifferenza Che tu riuscirai A mettere fuori combattimento Il narcisista È soltanto dando indifferenza Che tu riuscirai Veramente a togliere Dei coglioni Perché se tu non gli dai indifferenza Non toglierai mai più Dei coglioni Ce l'avrai sempre lì E sarai sempre In una situazione nefasta In una situazione negativa Quindi invece Devi levartelo Dai coglioni Una volta per tutte Te lo devi togliere Dai coglioni Una volta per tutte E l'unico modo È quello Di non riprendertelo Di mandarlo a fare in culo Quando torna Ma devi avere la forza Per farlo Non deve essere Un qualcosa Come dire Saltuario Devi proprio Devi proprio Essere Determinata Determinato È molto importante È molto importante questo Perché altrimenti Se non Fai le cose In questo modo Sarai Vinculato Vinculato a sangue Vinculato a sangue Ecco quindi Questo è fondamentale Devi trovarla La tua forza interiore Vai su altre persone Trova altre persone Fai altre cose Ma assolutamente Non devi prendere in considerazione Più il narcisista Per nessun motivo Per nessun motivo Devi continuare a prendere in considerazione Il narcisista Perché ti porterà soltanto Iella Ti porterà soltanto Negatività Ti porterà soltanto Situazioni Nefaste Quindi questo è quello che devi fare Seguimi su Instagram Massimo Tramasco Ufficiale Su TikTok E su tutti i miei canali YouTube Ovviamente Iscriviti al canale E attiva la campanella